E allora nel mare preferisco morire, nel sole e nel fuoco allora voglio bruciare Siamo qui all'auditorio in San Micheletto, è appena finita la proiezione delle opere in concorso di Over the Real che ringrazio molto per aver selezionato anche il mio video. È stato bello, tutte opere molto belle e sono onorato ancora della selezione e di essere stato accomunato a queste opere di videoarte con un video che il mio era essenzialmente un video musicale, lo troverete insieme a tutti gli altri ovviamente su tutti i social e il sito del festival. Grazie a tutti e un saluto. Grazie a tutti.